La ricerca parla di un vagabondo in giro per il mondo con il suo cane, ovviamente un vagabondo che purtroppo beve come tutte le persone che a volte purtroppo hanno questo problema, chiamiamola così malattia, vengono rifiutati dalla società. Hai scritto anche altri testi, alcuni parlano anche del tema della guerra, che è un tema molto importante e pur sempre attuale, e poi lo scritti altri sempre su vari problemi sociali. Hai un sito dove possiamo cercare le notizie che ti riguardano? Il sito internet è www.miriammasciandaro.it, la prima I è una J. Ok, grazie a voi.